Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, iscrivetevi a questo canile, va bene, iscrivetevi al canale specialmente se siete tifosi della Fiorentina, seguitemi sui social, seguite violapresses.com e scaricate l'app di OneFootball che vi lascio in descrizione, che vi dà notizie di calcio, di calcio a mercato in tempo reale mi raccomando, scaricatela a tutti. Allora, video abbastanza denso, importante e fomentato, perché ci sono delle questioni su cui porre l'attenzione partiamo da quanto avrebbe detto ieri di marzo, vi lascio anche il link in descrizione, sui rinnovi di Pezzella, Milenkovic e Chiesa sui rinnovi di Pezzella, Milenkovic e Chiesa e poi partiamo, passando anche dalla questione Cutrone poi passiamo a vedere cosa ha detto Commisso oggi all'arrivo a Firenze. Allora, parliamo dei rinnovi perché purtroppo si stanno allineando cose che vi preventivavo e vi ho preventivato da mesi inerenti tutti e tre e inerenti la situazione. Parliamo di Chiesa? Ma ragazzi, paradossalmente è la situazione meno negativa, non perché non lo sia in sé con un contratto in scadenza nel 2022 il giocatore che, da quello che riportano molti, non vuole restare le bizze che c'erano già quest'estate, i presunti segnali di forza dati. Allora, faccio notare che non solo hai fatto l'errore di non cederlo quest'estate perché è stato un errore conclamato e i discorsi del tipo Rocco non poteva cederlo perché si sarebbe presentato a Firenze cedendo il migliore sono stupidaggini perché sapete meglio di me che con la stampa che c'era, con la stampa che c'era quest'estate non dico con un suso, ma avesse preso un giocatore qualsiasi sostituendolo si sarebbero sprecati gli encomi del tipo ah ecco Rocco mostra i muscoli, cede Chiesa ma reinveste subito Firenze torna a sognare con i campioni sono tutte scuse quelle che non poteva cedere il miglior giocatore presente in Rosa è stato un errore. Ad oggi se lo vendi, care Grazie se lo vendi il rischio è molto alto di deprezzarlo, va bene, di deprezzarlo ho letto ieri di un'offerta che ci sarebbe da 45 milioni per il giocatore che è la cifra esatta che vi ho fatto nel video di qualche settimana fa in cui vi spiego come si potrebbe vendere Chiesa, anzi di settimana scorsa è la cifra esatta e ho letto tifosi della Fiorentina sotto questo post di Sport Mediaset a cui non credo molto, scrivere addirittura no vogliamo 60 e troppo poco 70 ma vi rendete conto della situazione in cui siamo? Io purtroppo non ci credo perché non ci credo che il Milan come prima offerta per Chiesa ti offre 45 milioni cash, è troppo, mi ci bacerei i gomiti se fosse vera sarebbe da prendere il giocatore e portaglielo a Milanello in Cariola ma non credo che il Milan sia così buono o così babbo a seconda dei punti di vista, conoscendo la volontà del giocatore conoscendo la situazione contrattuale ad offrire subito 45 cash senza alcuna contropartita sarebbe oro, a meno che sotto non ci sia qualche accordo per la questione di Rebic e via dicendo ma purtroppo ci credo poco perché sarebbe da baciarsi i gomiti di avere 45 cash per il giocatore subito sarebbe da portarlo in Cariola per quella che è la situazione oggi e non solo hai sbagliato quest'estate qui a non cederlo ma hai sbagliato anche a non predisporre il terreno per l'accessione nel frattempo perché doveva fare scuola sta cosa, doveva fare scuola dovevi dire, caspita, ho fatto un errore quest'estate che rischia di degenerare perché il giocatore non vuole rinnovare qua i tempi stringono, si rischia di andare a scadenza nel 2022 mi preparo il terreno non dico che dovevi andare dall'Inter prima che prendesse Hakimi per cercare di sistemare il giocatore perché, capito, è alta scuola e per carità ma almeno cercare di predisporre il terreno un po' prima perché qui la situazione non è proprio delle migliori se è quella raccontata se è quella raccontata non è delle migliori parliamo di Pezzella? allora, già ci sarebbe da aprire una parentesi anche qui su tutti i fiumi di retorica che ci siamo ossorbiti quando c'era Pioli, Pezzella, Capitano, Pezzella, Simbolo, Pezzella qua, se vi ricordate l'anno scorso era un altro che volevo cedere che è che avrei ceduto e che avrei ceduto l'anno scorso lo cedevi a più soldi di quelli che incamereresti ora ok? il giocatore, devo dire che tecnicamente a me non spiace cioè se lo analizzo solo dal punto di vista tecnico è uno che ad oggi dovresti riconfermare perché comunque conosce Firenze è esperto, è un buon difensore è un buon difensore su quello niente da dire però anche lui, da quel che dice Di Marzio non intende rinnovare il contratto su di lui ho letto valutazioni veramente inconcepibili perché 15 milioni per Pezzella sono pochissimi ma non è che sono solo pochi oggettivamente in relazione al valore del giocatore ma sono anche pochi perché vi invito a questa seguente riflessione secondo voi, dando 15 milioni di euro in mano a Pradè o alla dirigenza sarà facile per loro andare a prendere un giocatore sostituto di Pezzella esperto e bravo come Pezzella? non lo so permettetemi di dire che è molto difficile visti i giocatori che sono stati presi quest'estate poi vi faccio riflettere anche su una cosa abbiamo venduto Veretù a 17 milioni abbiamo venduto Veretù a 17 milioni ok? speriamo che su Pezzella non ci sia nel caso se si parlerà di cessione e via dicendo da fare riflessioni simili perché veramente anche qui la situazione lascia il tempo che trova parliamo poi di Milenkovic e lì avvocato c'è una ferita nel cuore c'è una ferita nel cuore perché stiamo parlando semplicemente del giocatore più forte dell'attuale Fiorentina più forte di Castroviglia e Vlaovic che comunque sono giovani e devono dimostrare più forte di Chiesa più forte di tutti Milenkovic è il giocatore più forte di tutti e dovrebbe essere il tuo capitano e il fatto che non voglia rinnovare se è vera è un'amazzata è un'amazzata e sapete perché è un'amazzata questa situazione questo questo trivio di situazioni è un'amazzata? perché il vero viaggio di scoperta è chiedersi la seguente cosa ma perché non vogliono rinnovare? e sapete perché a mio avviso non vogliono rinnovare? o comunque sapete qual è la cosa che anche può influire e influisce molto a mio avviso sul rinnovo? la progettualità la progettualità che è quello che vi ho detto da mesi perché se tu non più tardi di ieri presenti un giocatore come Buonaventura che in conferenza stampa ti dice non abbiamo un obiettivo preciso se tu dopo un anno di transizione che ci può stare attenzione è il primo anno per carità ma se tu dopo un primo anno di transizione confermi tutti ok? e siamo qui anche voi non vi siete resi conto che a livello di dichiarazioni ufficiali abbiamo anche qui ripetuto l'errore dello scorso anno in cui si disse l'obiettivo è un anno di transizione e quest'anno l'obiettivo quale sarebbe? la parte sinistra della classifica? fare un punto in più dell'anno scorso? tu dopo un anno in cui ti sei salvato la terza ultima quarta ultima giornata hai confermato amministratore delegato direttore sportivo e allenatore secondo voi se tu punti a dei rinnovi e a confermare gli elementi forti e richiesti della tua squadra hai più forza e più capacità di convincimento ad andare a contrattare un rinnovo con un Milenkovic con questa situazione qui o magari seguendo il consiglio e la strada che vi davo qualche mese fa dicendo attenzione ragazzi passi il primo anno però dall'anno prossimo sarebbe il caso di cambiare dirigenza prendersi un nuovo amministratore delegato uno un nostro marotta uno alla braida così e via dicendo un direttore sportivo un po' più diciamo sul pezzo un po' più di calibro e magari anche cambiare allenatore fissare degli step precisi puntare al ritorno in Europa con dei piani chiari con delle date chiare fare un progetto a step che sia chiaro con degli obiettivi chiari da raggiungere con la pretesa di raggiungerli e avere tutto fissato avere un progetto ecco secondo voi se la Fiorentina faceva questo pigliandosi magari un braida come amministratore delegato prendendosi magari un ausilio o un altro un petracchi come direttore sportivo e magari anche prendendosi un allenatore diverso ma non tanto perché quelli che ci sono stanno sulle palle o sono dei mostri ma perché dopo un undicesimo posto tu facevi capire benissimo ragazzi siamo arrivati siamo arrivati decimi ci siamo salvati a tre quattro giornate dalla fine va bene è stato un incidente però io qui ho delle ambizioni io voglio puntare a un rilancio forte della Fiorentina voglio che la Fiorentina torni in Europa e andavi da Milenkovic dai Pezzella e dai Chiesa sulla scorta di questo ma soprattutto da Milenkovic perché degli altri mi interessa relativamente andavi da Milenkovic e dicevi guarda è vero che siamo arrivati a metà classifica l'anno scorso Nicola però da quest'anno l'aria cambia e a te non solo propongo un rinnovo ma ti faccio vedere che l'allenatore è diverso che il direttore sportivo è diverso che l'amministratore delegato è diverso che la Fiorentina che hai visto sto anno è un ricordo perché noi vogliamo puntare in alto e tu non solo puoi rinnovare con noi ma vogliamo che tu sia il simbolo nonché capitano di questa Fiorentina che nel giro di due anni punta a tornare stabilmente in Europa e tu ne sarai il simbolo con i fatti perché vede gente nuova vede un'aria nuova vede che si pretende vede che c'è un progetto chiaro ed evita di vedere gente che va in conferenza stampa a dire che non ci sono obiettivi se lui vede una squadra che sostanzialmente per bocca anche dei dirigenti parla di un punto in più dell'anno scorso di parte sinistra della classifica vede un giocatore che va in conferenza stampa a dire che non ci sono obiettivi calciomercato fatto con Borca Valero e Buonaventura da Svincolati secondo se voi foste Milenkovic e aveste offerte di grandi squadre sapete che potete giocare praticamente titolare in qualsiasi squadra di Serie A perché ad oggi Milenkovic potrebbe giocare titolare in qualsiasi squadra di Serie A anche europea rimanete a Firenze? Già sarebbe difficile rimanerci con una Fiorentina che fa sto step che vi ho detto perché non sarebbe scontato ma almeno almeno avresti chance in più cioè se la situazione è questa io vi faccio umilmente notare vi faccio umilmente notare che per esempio il primo anno di Serie A della scorsa proprietà coincise anche quello con una salvezza difficile raggiunta all'ultima giornata vi ricorderete era l'anno di Miccoli di Maresca di Chiellini e via dicendo ok? fu un primo anno di Serie A negativo perché era una squadra che tutti davano come una possibile outsider ci salvamo alla penultima giornata l'anno dopo però cosa si fece? si cambiò tutto arrivò Andovia Lucchesi arrivò Corvino Andovia Zoff arrivò Prandelli fu l'estate degli acquisti dei vari toni Brocchi Fiore ve la ricorderete siamo arrivati quarti sul campo nel 2005-2006 terzi sul campo nel 2006-2007 poi iniziò la cavalcata europea della Fiorentina di Prandelli che culminò con una semifinale di Europa League due partecipazioni Champions League di fila di cui una quasi quarti di finale nell'anno del triplete dell'Inter ve lo ricordate? ecco quest'anno tu dopo una salvezza alla quart'ultima terz'ultima giornata hai confermato tutti che tipo di messaggio vuoi dare facendo questo è stato un errore è stato un errore è stato fare questo che si può riflettere anche sull'attrattività e sul fascino che certi giocatori possono avere verso di te sia giocatori che chiami sia giocatori che hai in squadra che possono avere offerte più importanti e purtroppo in questa situazione rischi di pagarla e io non trovo concepibile che un giocatore appena arrivato vada in conferenza stampa a dire che non ci sono obiettivi precisi non trovo concepibile che non più tardi di due anni fa quando Andrea della Valle diceva che l'obiettivo era il settimo posto fu sommerso di cacca ad oggi che lo dicono questi che l'obiettivo non è neanche il settimo posto ma è fare un punto in più dell'anno scorso la parte sinistra della classifica migliorare rispetto all'anno scorso va tutto bene eh bisogna avere pazienza ah grande Rocco ah comunque va bene ah sì è bene così sono contento siamo fiduciosi ma perché? ma cosa è successo? cioè siete passati dal contestare una semifinalista di Europa League una squadra semifinalista di Europa League al farvi andare bene uno tavolo all'opposto con queste situazioni qua ma stiamo scherzando ma state scherzando e purtroppo la gestionalità vi ripeto se la situazione dei tre rinnovi ad oggi è questa qui è una situazione dura è una situazione dura che dimostra da un lato una gestione vi ripeto totalmente errata del caso Chiesa ma non è neanche un mistero cioè non è che lo scopriamo oggi ma dall'altro punto di vista specialmente sugli altri due e in particolar modo su Milenkovic apre un vero punto di domanda su quella che è l'attrattività di questo progetto sulla forza di questo progetto su come viene percepito anche dai giocatori che ne fanno parte da quelli più rappresentativi anche da quelli più rappresentativi voglio se questi non vogliono rimanere vi siete fatti due domande su quelle che possono essere le prospettive o meno è lecito farsele o non si può o va tutto bene poi oggi commisso arriva sostanzialmente conferma le parole di Pradè parla dello stadio dice sì finché allora già posso dire già una persona che parla in terza persona di sé io non ho non ho non ho un grandissimo rapporto diciamo con le persone che parlano di sé in terza persona ma fate questa piccola parentesi che è personale sicuramente ci sarà qualcuno che invece dirà che va bene le persone che parlano in terza persona sono le migliori del mondo va benissimo è una mia nota personale posso posso dire che a me sentire una persona che parla di sé in terza mi fa ridere va bene ma è una nota di è una nota di colore ma detto questo arriva commisso e dice Rocco finché non vede le carte sullo stadio va bene sentiremo vedremo come andrà avanti la questione dello stadio ha parlato dei costi di Campi Bisezio e ha sostanzialmente venendo alle cose interessanti confermato le parole dette da Pradè sostanzialmente che è già stato speso molto a gennaio che la squadra è praticamente fatta vedremo che cosa succederà ma sostanzialmente la Fiorentina è questa e adesso c'è già diciamo sui social e via dicendo gente che è pretattica è tutta pretattica sono convinto che è pretattica siamo tutta cioè noi c'è talmente tanta pretattica capito che non sembra ad ascoltare certi che sembra neanche di essere in una squadra di calcio sembra di essere nello staff di The Mentalist avete capito cioè a sentire certi certi tifosi che parlano di pretattica della Fiorentina e viene ma stiamo facendo pretattica da un anno e mezzo cos'è The Mentalist cioè ha confermato le parole di Pradè che io vi ripeto a guardare la squadra e a guardare gli obiettivi non è neanche tutti i torti però sostanzialmente ha confermato le parole di Pradè parliamo di Cutrone adesso leggo che Cutrone sarebbe in uscita e si vorrebbe Piontek capite che ci credo poco ci credo poco a sta storia che si cerca il bomber e via dicendo perché io resto alle parole di Pradè che abbiamo 5 attaccanti in rosa ed è anche vero io penso che si punti su questo vediamo a fine mercato cosa succede ma mi spieghereste nel caso il senso di andare a prendere un Piontek affiancandogli Quame e Vlaovic cioè si vuole ricreare l'attacco del Genoa di 2-3 anni fa ma noi abbiamo un Vlaovic abbiamo una variabile Vlaovic che voi secondo me non considerate e che giustamente Pradè e qui sono vi ripeto da che ha fatto la conferenza quando ha parlato di Vlaovic e degli attaccanti quando ha parlato della squadra io non ho di che dargli torto e su Vlaovic ha perfettamente ragione e su Vlaovic ha perfettamente ragione quindi sul bomber vediamo cosa succede ma la situazione più esiziale su cui vi invito a riflettere è veramente quella dei rinnovi e ditemi cosa cosa ne pensate voi un caro saluto e ditemi soprattutto se non sono cose su cui vi ho messo in guardia perché vi ricordo che l'estate scorsa ero qui a dirvi ma non è che magari visto che c'è sta roba che si dilaziona la cessione di chiesa non è che magari tra una o due finestre di mercato ci ritroviamo a paventare il rischio di una cessione di Milenkovich non solo c'è sta grana da rinnovo ma attenzione perché lo stesso Pradè che vi ho menzionato adesso in conferenza stampa qualche giorno fa ha detto non posso garantire che in difesa restino tutti grazie a tutti